Benvenuti a Dentro la Notizia, lo scioglimento del Consiglio Comunale di Grotta Minarda ha lasciato degli strascichi nella comunità, già c'è fermento per le prospettive, ma qui a fianco c'è ospite il dottore Marcantonio Spera per chiarire ulteriormente il suo punto di vista, dare il suo punto di vista sulle motivazioni dello scioglimento. Dottore buonasera innanzitutto. Ringrazio tutti voi, ho accettato l'altra volta con grande piacere di comunicare a tutti, ai cittadini tramite l'emittente, le motivazioni generiche di quanto accaduto nella nostra città, proprio per dare una prima spiegazione ai cittadini e anche agli altri interlocutori politici, per i quali anche quelli di controparte, quelli che hanno forse subito la nostra iniziativa, l'iniziativa dei tre definiti dissidenti, ribelli, con tanti appellativi in questi giorni. Sono stato appunto felice perché volevo comunicare meglio le motivazioni che avevano portato a quella scelta dolorosa e nello stesso tempo volevo che cercare di spegnere il fuoco della polemica perché la polemica dopo un'iniziativa del genere rischia di vampare, di creare ulteriori fratture, ulteriori conflitti che possono non giovare al futuro di Grotta Minarda che di qui a poco dovrà spiegarsi con le elezioni per scegliere una nuova classe dirigente. Io pensavo di essere stato come dire chiaro, semplice, diretto, senza entrare nei particolari e questo per una forma di pudore che ho anche perché in questa fase si sono celebrati anche dei conflitti esistenziali tra qualcuno di noi e io ebbi a dire delle parole belle ad esempio per il sindaco Angelo Cobbino al quale mi lega grande amicizie, grande stima e grande rispetto e pensavo di aver chiuso con quelle spiegazioni riservandomi poi nel futuro immediato di affrontare anche le tematiche e le questioni e i problemi che hanno portato a questo strappo in una maniera più analitica, più circostanziata per far capire ai cittadini le vere, le motivazioni profonde, tecniche anche, che hanno portato a questa dolorosa decisione. e però poi ho dovuto registrare che le risposte che ho avuto anche sui giornali e tramite la vostra emittente televisiva sono state balurde. Non riesco a trovare un termine più appropriato. balurde. Sono stato molto combattuto tra l'ipotesi di scrivere, di reagire con comunicati e però qualcuno mi consigliava, lascia perdere, si commentano da sole quelle due interviste. poi mi state dando questa opportunità che io ho colto al volo e io sinteticamente penso di essere in grado di demolire i concetti e le esternazioni formulate in questa sede dal coordinatore del Gallo e dallo stesso sindaco Angelo Cobbino. e riuscirò, penso, riuscirò a farlo con poche parole rispondendo a tutti e due. L'aiuto io allora a portarla su queste motivazioni. La ringrazio. Lei mi ha detto motivazioni tecniche, allora ci sono stati dei progetti che hanno prodotto delle divergenze per caso delle proposte che non sono state condivise in giunta, delle iniziative che sono state respinte perché queste a mio avviso sono motivazioni tecniche, perché di solito una sfiducia non è che arriva così forse non avete avuto una visibilità, la visibilità che speravate, ma c'è stato uno scontro su delle questioni tecniche. Sì, anche, anche, le dico velocemente, mi è dispiaciuto tanto che il sindaco Angelo, ex sindaco Angelo Cobbino ha banalizzato una crisi profonda iniziata all'indomani delle regionali in seno all'amministrazione è vecchissima e lo sfido a venire anche in un confronto con me perché gli chiederei ti ricordi quante volte sono venuto da te a parlare in privato, quante volte ci siamo confidati con l'affetto che ci legava, qualche volta con le lacrime agli occhi, quante volte sono andato da lui a dire le cose non vanno bene, dobbiamo registrare qualche cosa, dobbiamo correggere, le interferenze del coordinatore ti mettono in cattiva luce, mettono in cattiva luce tutti noi, abbiamo governato insieme e bene per cinque anni adesso si è rotto il giocattolo. Ripeto, mi limito a dire interferenze per dire, per non dire questioni tecniche questioni organizzative, questioni di collegialità, di tavolo delle decisioni, di maggioranza Mi fate un esempio? Ma posso fare mille, potrei fare mille esempi, mille esempi e ne faccio uno riassuntivo che può essere, che è documentato Nel settembre, agosto settembre del 2021, in seguito a scontri, confronti accesi in ambito amministrativo su questioni importanti per le quali qualcuno dice che noi non avevamo proposte Quella stessa persona che dice che non avevamo proposte è la persona che mi voleva sindaco e voleva sindaco uno che non fa proposte Lo sfidai al tavolo con 50 punti programmatici, tutti disattesi, tutti cestinati, tutti contrastati e non sempre direttamente al tavolo, anzi eludendo il tavolo della maggioranza, con inganni e sotterfuggi Io li ho sfidati più volte e dirò di più Su quei 50 punti che io portavo al tavolo, alcuni consiglieri vicini al coordinatore alias Marisa Graziano e Rocco De Luca erano d'accordo con me, mi incitavano mi incitavano a portare gli argomenti al tavolo, le proposte che dice il coordinatore che ci ha tacciati di incapaci, l'ha fatto da questa poltrona, ci ha osannato per 5 o 6 anni eravamo i suoi pupilli, di colpo siamo incapaci, come ha fatto con altri amministratori che adesso arricchiscono il club dei frustrati e non faccio nomi perché non voglio fare nomi tutti ingannati a un certo punto da lui, che è un bravo coordinatore ma che ha i vecchi metodi della politica, la politica del controllo egemonico del dividi e timpera, delle cose calate dall'alto Si può ricordare un tema di questi 50 che aveva proposto? La modernizzazione del comune, che era uno dei temi cari a tutti, che è un tema attuale che è un tema ricercato, indispensabile proprio per gli sviluppi che ci saranno in tutta questa zona nella valle dell'Ufita, con grandi ripercussioni su Ariano, sulla Baronia, su tutto un comune come Grotta Minarda deve essere modernizzato modernizzato significa rivedere gli uffici, rivedere i settori, i tecnici Quindi l'ambito dell'organizzazione dei servizi L'organizzazione dei servizi, tutto, tutto ostacolato Eventualmente cambiare dirigenti, farli ruotare Non cambiarli, responsabilizzarli, aiutarli con mezzi tecnici e con incontri con lavoro, con dedizione, con interscambio con interscambio collegiale Cosa che non c'è stata e questa è una delle cose che maggiormente abbiamo rimproverato Cosa per la quale Angelo Gobbino era d'accordo con me Al tavolo, mi diceva sempre, al tavolo in privato che dovevamo operare in quella direzione dovevamo operare e non si è mai fatto Non si è mai fatto perché? Perché andava bene così a qualcuno che aveva egemonizzato alcuni settori e decideva arbitrariamente cosa fare, cosa non fare Nonostante sempre al tavolo venisse continuamente scoperto messo pure in un angolo chiedeva scusa addirittura ma poi ripartiva da capo Però io le devo chiedere una cosa Prima le ha detto, perché è uscita una notizia che la questione è di carattere politico perché è nata dopo le regionali questo non l'ha mai detto nessuno qui nelle interviste E infatti, ma scusate, ma non siete andati d'accordo per otto anni? Che cosa è successo? Siamo andati d'accordo... Cioè un matrimonio salta così, salta il futuro di una città di una causa di una sola persona? No, non è una sola persona Siamo andati d'accordo per cinque anni Per cinque anni siamo andati d'accordo bene C'era il confronto, c'era il tavolo c'erano i ragionamenti, c'era la condivisione C'era la collegialità, c'erano mille problemi ma si procedeva, si faceva poco ma si faceva bene nel rispetto delle regole, dei ruoli, delle posizioni c'era dialettica, c'era confronto, c'era condivisione Con la seconda legislatura piano piano questo è cambiato e all'indomani delle regionali si sono create due correnti nell'ambito dell'amministrazione Una era la nostra dei tre ribelli che eravamo vicini al PD quantunque io non sia iscritto al PD e un'altra è stata un'altra corrente che si ispirava a Italia Viva Con Italia Viva si erano avvicinati ad Italia Viva Marisa Graziano, l'amico Rocco De Luca e l'ex vicesindaco Lucio Lanza Ma da quel momento in poi ci sono state le prime frizioni di ordine politico Perché? Scusate, in regione amministrano insieme a Grotta non si poteva fare questo Ma appunto, ecco che io qua voglio contestare quello che ha detto il coordinatore Ha detto che quando uno vuole una tessera di partito e ci ha attacciati di antidemocraticità quando uno vuole la tessera del partito quando scende dal comune se la fa e lui dà queste patenti Noi non abbiamo mai detto a nessuno non avvicinatevi a quello o quel partito Casomai siamo stati noi nel mirino che eravamo troppo vicini al partito democratico Partito democratico che lui pure guardava lui guardava un po' al partito democratico un po' a Italia Viva però la nostra vicinanza al partito democratico evidentemente lo disturbava per arrivare a dire quando scendete dal comune vi fate la tessera ma questo è un esempio di antidemocraticità indescrivibile inaccettabile comunque passano le regionali e continua il confronto con questa diciamo corrente che si era venuta a creare e si arriva piano piano poi alle provinciali ed è con le provinciali che si completa lo scontro su questa dicotomia politica Avete appoggiato a Marisa Graziano? Abbiamo appoggiato Marisa Graziano I numeri non tornano a grotta però? No, i numeri tornano vi garantisco che tornano noi abbiamo appoggiato Marisa Graziano e io adesso oggi dico che ho sbagliato io avevo detto al coordinatore a Marisa Graziano al sindaco Angelo Gobbino facciamo un grave errore ad appoggiarla potremmo scegliere strade diverse che ci avvicinano e qua veniamo anche a una visione politica che dovrebbe essere quella che dirige e orienta un'amministrazione comunale noi tre eravamo per un candidato forte grottese con il PD abbiamo poi deciso di votare Marisa Graziano ma ci siamo orientati con il voto disgiunto per il voto al presidente Bonopano che poi ha vinto e questo per noi è stato una piccola ancora di salvezza perché oggi è importante realizzare creare la rete per amministrare la rete in una filiera che va dal piccolo comune fino alla regione Campania fino ai ministeri la rete, una rete virtuosa una rete produttiva non una rete di amicizie che ti devono agevolare in quanto tali una rete utile un po' di carattere politico lo devo fare perché la rete ce l'avevate in ogni modo sia se avessi vinto l'uno che l'altro quindi avevate più canali di comunicazione sia con la provincia che con la regione Noi non a caso abbiamo comunque votato Marisa Graziano però il nostro orientamento politico che è quello che poi ci è stato rimproverato tantissimo ecco qui l'antidemocraticità del coordinatore è il nostro orientamento politico che veniva messo sotto accusa forse dovevamo votare anche per D'Agostino e perché noi ritenevamo il voto utile un voto politico diretto verso Buonopane verso la nostra rappresentanza del PD Quindi possiamo dire che la causa non solo è regionale ma è provinciale No, io ripeto queste cose qua sono piccoli spundi a latere che Ramoscelli di una condizione di scontro-confronto continuo di tipo amministrativo di tipo politico oserei dire anche di tipo personale che poi si è venuto a creare e non a caso adesso vediamo che la reazione del coordinatore anche di Angelo Cobbino è stata che siamo incapaci che non facevamo proposte che addirittura sapevamo solo proporre musichette lui ha sparato a zero dicendo queste cose sull'assessore Pascucci l'assessore Pascucci è stata un faro in questa una cosa visto che le accuse sono state pesanti dall'altra parte lei prima ha detto che è disponibile a fare un colloquio possiamo fare un confronto con Gianni Cielo no con Gianni Cielo non lo faccio il confronto perché quando all'indomani dell'ennesimo scontro con Gianni Cielo quando ci è stato proposto brutalmente di decapitare il miglior assessore del comune molto migliore di me l'assessore Pascucci quando avevamo altri accordi si è consumato il tradimento del coordinatore che l'ha imposto al sindaco il sindaco fino all'ultimo ha cercato di evitare l'azzeramento della giunta e il cambio degli assessori ma le dirò di più è stato proposto questo dicendo l'assessore deve essere sostituito l'assessore Pascucci ripeto già bersagliata da tanti dall'opposizione da tanti da altri attualmente amici che stanno facendo pure la lista insieme con Giovanni Annicello lapidata in questi anni ingiustamente la più brava veniva fatta questa proposta e io avrei dovuto accettarla perché poi io ero il candidato sindaco ora siccome né io né Pascucci né Grillo se eravamo e siamo attaccati alla poltrona abbiamo detto no e la mia reazione è stata vehemente contro il coordinatore perché è lui che ha imbastito tutto questo secondo me ma si ricandida si ricandida io io sicuramente sì se gli altri riterranno che sono meritevole di essere candidati in una compagine ma mi faccia finire questo discorso perché è importantissimo perché devo chiarire un altro aspetto brutto dell'intervista ad Angelo Cobbino ripeto ad Angelo Cobbino nel documento del settembre del 2021 ha un documento privato dato ad Angelo Cobbino un documento privato nel quale chiedevamo già allora che il coordinatore non avesse interferenze con i settori tecnici del comune volevamo l'interlocuzione diretta con degli amministratori con i capi settore e Angelo Cobbino era pure d'accordo in privato e qua lo dico però il nostro documento politico che era nato dopo un'altra crisi inventata proprio dal coordinatore per farci paura poi fu sottaciuto quel documento io l'ho ripreso adesso l'ho letto a tutti gli amministratori e l'ho pure pubblicato nel quale chiedevamo di intensificare il lavoro di intensificare le proposte di intensificare i controlli di intensificare la collegialità tavolo deserto non venivano più neanche al tavolo della maggioranza adesso invece dopo che è stata fatta questa proposta indecente io ho affrontato il coordinatore e poi ho affrontato anche il sindaco ho detto che quella proposta non la dovevano portare al tavolo perché avrei tolto il saluto a queste persone se venivano al tavolo a fare quella proposta si discute di altro al tavolo e quando siamo stati poi il sindaco ha fatto pure un po' di confusione sulle date questa proposta indecente è stata fatta a me il 13 febbraio un po' prima della prima verifica chiesta ufficialmente dal consigliere Rocco De Luca quando siamo andati alla prima verifica io già avevo parlato un'ora prima con il coordinatore gli avevo detto io dopo questa carognata non ti riconosco più come coordinatore ma non è per questa carognata gli ho detto in privato e ho detto al tavolo e ho detto al sindaco in privato e al tavolo che per me la fiducia verso il coordinatore era saltata ma non per quell'episodio specifico ma per un anno di scontri di fuga in avanti di sabotaggi e ho detto al coordinatore che un giorno magari ne parleremo di queste cose questo ho detto io facciamo un confronto in modo tale che ne parlerete insieme farò io da paciere della situazione io non voglio non voglio non ho niente non ho da far pace con il coordinatore io con il coordinatore quando avrò voglia quando sarà utile e necessario visto che adesso lui è già in campagna elettorale è in campagna elettorale con tutte le persone delle quali ne ha dette peste e corna perché così succede in politica anche io sto con l'opposizione adesso sto cercando infatti dopo c'è una domanda del genere alla fine è riservata voglio concludere questa cosa perché arrivo ad un punto importantissimo pregnante quando io ho detto al coordinatore che non lo riconoscevo più ho detto che con lui non avrei più parlato di politica e di questioni amministrative sopra il comune io non mi sarei più seduto a un tavolo perché lui aveva tradito la mia fiducia l'ho detto al sindaco e l'ho messa come condizione della verifica ho detto io vengo a fare le verifiche lui ci potrà pure essere perché me lo chiedi tu sindaco che sei molto legato a lui e ti capisco e quante volte il sindaco mi ha detto in questi mesi tribolati Marco dobbiamo parlare noi con il coordinatore dobbiamo fargli fare un passo indietro il sindaco me l'ha detta questa frase fare un passo indietro significa che doveva essere meno ingombrante meno preparicatore meno arrogante purtroppo lui è partito è partito dopo le regionali piano piano dopo le provinciali è stato un diluvio facendo quella proposta dopo che avevamo fatto un accordo solenne insieme al sindaco e agli altri amministratori che non dovevano toccare la giunta però visto che il sindaco incalzava noi abbiamo prodotto un altro documento politico se vuole glielo lascio o lo leggo nel quale abbiamo detto che il sindaco dice che noi eravamo un blocco granitico che non cedeva e non voleva più patteggiare per questo io voglio fare un confronto in modo tale che troviamo una sintesi abbiamo scritto nel documento che non eravamo attaccati alle poltrue che facevamo la verifica che eravamo disposti a posare le deleghe rivederle e cedere gli assessorati ad un patto che il coordinatore facesse un passo indietro ma Angelo Gobbino che io ho definito ostaggio e sono stato buono alla luce di quello che ho sentito nelle ulteriori dichiarazioni che ha fatto e nell'intervista che ha fatto Angelo era ormai muto e sordo ok devo andare avanti ho capito il concetto lei ha detto che si ricandida quindi no io ho detto che cercherò di ricandidare parliamo di futuro parliamo di piattaforma logistica visto che tutti gli amministratori della zona sono alle prese con questo ed altro tema secondo lei dove andrà posizionata la piattaforma logistica nell'area di Flumeri in altra zona altra questione nodo intermodale ferro gomma dove andrebbe ubicato e per quali ragioni allora lei mi sta facendo una domanda tecnica alla quale potrei rispondere con tante argomentazioni non la capisco però questa domanda ma non mi sottraggo la piattaforma logistica la posizione il mo e perché la piattaforma logistica allora può andare a vederlo nei documenti che abbiamo prodotto come amministrazione in sinergia con Confindustria con i sindacati e con alcuni delle comunità dei paesi che fanno parte dell'area vasta e ne approfitto per dire la mia un'altra mia idea che è stato frutto di ragionamenti di confronti e di scontri con il coordinatore e con altri la questione della ferrovia dell'alta velocità della piattaforma logistica va vista in un contesto di comprensorio l'alta velocità non è patrimonio di Ariano di Melito di Grotta dove va messa a destra o sinistra dove deve arrivare la via dove deve deve essere ubicata la via che connette l'AIR che connette il casello autostradale quali sono i ristori e quant'altro tutta tutta discussione che ha alimentato i vari confronti e scontri in questi ultimi periodi con la regione Campania con le ferrovie con Confindustria con i sindacati e che ha visto attivamente il coordinatore Giovanni Annicello per organizzare e per condividere un progetto utile comprensoriale lui si è speso per un progetto comprensoriale mi pare lui si è speso tanto guardi che io non sto qua però non mi ha risposto la domanda il dove perché alla fine capisco che deve essere intercomunale però in un posto si deve mettere questa piattaforma le rispondo dove è stata prevista adesso mi faccia finire lui ha interagito bene ha lavorato bene ha condiviso anche con l'amministrazione tutte le mosse che sono state fatte ed è per questo che ha avuto mandato da noi per fare questo lavoro ciò non significa che la ferrovia l'ha portata lui là e ha deciso la riva nord e la riva est come piace tanto fare a lui e tanti altri politicanti e tecnici della zona sembra che ognuno si vuole intestare le cose e lui da questa sedia ha detto che noi non capiamo niente lui proprio per questo gli ho dato l'opportunità di rispondere io la prendo a volo ma più che dirle su quale riva del fiume mettere la piattaforma io le dico che non ho apprezzato quello che ha detto lui che noi dove eravamo quando è stato concepito l'air dove eravamo quando è stata concepita la variante la piattaforma logistica i treni dove arriveranno eravamo con lui eravamo a fianco a lui gli abbiamo dato mandato perché lui è una persona in grado di interagire in questi contesti lui si perde nel momento in cui comincia a parlare con l'io come ha pure detto qua io io non c'è da intestarsi niente non ha portato lui la ferrovia la stazione Irpinia qui la stazione Irpinia è il frutto del lavoro di tanti della modernizzazione è frutto degli interessi altra domanda sul futuro sempre di Grotta Minarda visto che ci sono tante infrastrutture però forse mancano strutture ricettive in questo periodo siamo andati in crisi perché tanti lavoratori per fortuna che sono arrivati in Valle Ufida mancano alberghi agriturismi bed and breakfast perché non riescono quei pochi che sono a soddisfare le esigenze crede che l'iniziativa dei privati sia necessaria in questo momento se sì fino a che punto dove come quando e perché sì sì sarò pure esaustivo forse più che per l'altro argomento ma mi inserisco sempre nell'altro argomento perché non l'ho completato quando si è parlato di questo sviluppo in questa zona si è cominciato a parlare in maniera programmatica e qua devo riprendere concetti cari a Domenico Gambacorta addirittura a altri tecnici della regione Campania a Luigi a Luigi Famiglietti che allora si copriva si era pensato di creare una task force la chiamo così per velocizzare task force che io volevo al comune di Grotta adesso ho combattuto per un anno non ci sono riuscito solo ultimamente ero ero riuscito a creare una bozza di task force per lo sviluppo e il PNRR e non vi dico ostacolato in che modo ma comunque torniamo all'altro argomento è chiaro che ci vogliono anche i privati per me ci vogliono anche i privati ma ci deve essere una cabina di regia la cabina di regia era stata evocata in questo tavolo allargato che vedeva l'area vasta l'area vasta organizzata con tecnici con persone esperte esperti di confindustria della regione Campania che dovevano mappare il territorio sottolineare le vocazioni territoriali perché non è normale fare la piattaforma logistica a Zungoli se i treni arrivano qua ad Ariano no c'è tutto un discorso conseguenziale per cui questo gruppo di esperti che ha lavorato con mandato dell'area vasta doveva valutare il territorio vedere le vocazioni territoriali per zone concentriche e quindi ridisegnare il futuro qui in zona per tutti non solo per i 5 comuni più vicini alla ferrovia e io in questo su questo argomento ho litigato al tavolo mi ricordo in una riunione che io forse mi riscaldai troppo il coordinatore davanti agli altri sindaci io lo redarguì un po' perché mi ero un poco avvicinato a quella che era una teoria propugnata dal sindaco di Ariano Franza che in quel momento auspicava ponti d'oro per tutti i paesi del comprensorio cosa che non poteva essere in questa fase diciamo immediata di costruzione di trasformazione del nostro territorio e quindi si pensava a iniziare qui e poi allargare in maniera concentrica tutti lo sviluppo di tutta la zona perché la rigaduta ci deve essere su Grotta Minard su Ariano ma anche su Villanova sugli altri paesi come pure asseriva il sindaco sì soltanto sul nodo intermodale mi pare che non mi ha risposto sono d'accordo sul nodo intermodale sono d'accordo questi sono argomenti ipertecnici sui quali io non posso che essere favorevole a quello che stiamo a cui abbiamo lavorato Gianniciello ha lavorato bene su questo Gianniciello si è speso tanto ha lavorato bene però si è speso tanto ha lavorato bene nel senso dell'impegno e della come dire costruzione di questa prima fase però io gli ho rimproverato continuamente che doveva avere una visione più programmatica più da master plan per dire un termine caro invece a altre persone un master plan con una forte con una forte come dire interazione anche con la regione e con la provincia andiamo avanti voi vi siete dimesso da vice sindaco in carica la delega perché non l'avete lasciata prima cioè mi sfugge qualche passaggio non mi hanno informato bene siete già proiettato visto a lavorare per il futuro in che veste farete il coordinatore di un gruppo il leader vi darò pure qualche notizia in più su questa cosa che non mi state chiedendo però penso che sia utile che sia utile io non mi sarei mai dimesso io ho lavorato io sono stato l'ultimo a uscire dal comune la sera prima del giorno in cui si è consumato lo strappo delle firme di sfiducia quasi contestuali all'atto d'imperio del sindaco che con una cosa bislacca pensava leviamo per un anno l'assessorato a una donna e poi un altro anno a un altro per darla a Marisa Graziano questo era il riequilibrio che lui aveva immaginato noi volevamo dare due assessorati agli altri non volevamo più lui il coordinatore questo era il passo indietro questo era il riequilibrio tra i due blocchi come li chiama lui io non ho avuto il tempo di pensare ad altro io ho lavorato fino all'ultimo momento se ne sono scappati dal tavolo la sera prima qualcuno addirittura tirando pugni vicino alle porte e noi abbiamo chiesto infine per l'ultima volta al sindaco Angelo devi risolvere tu questa cosa noi siamo disposti a dare gli assessorati noi non vogliamo il coordinatore e lui si è immolato per il coordinatore lui che dice che ha a cuore la comunità ai cittadini lui ha avuto più a cuore il coordinatore e noi il giorno dopo ci siamo non potevamo fare altro era l'ultimo giorno per dare la possibilità a Grotta di scegliere velocemente senza perdere niente una classe dirigente nuova sarà il leader di un gruppo? io sto in un altro gruppo adesso con i due ex assessori compagni di avventura stiamo lavorando a costruire una lista nuova partendo questa volta da regole certe di collegialità di condivisione fate con la minoranza? anche con la minoranza e con chi vorrà esserci e il Giovanni Nicillo dice la prima volta mi è scappato il nome non lo volevo dire il coordinatore sarete leader di questo gruppo? io mi piacerebbe essere leader dovrò dimostrarlo agli altri dovrò guadagnarmelo e vi dirò di più io posso fare un appello l'appello è questo dopo due domande veloci abbiamo chiuso io voglio fare un appello al sindaco Angelo Cobbino di ora che si è consumato tutto di non continuare a fare da stampella a chi lo ha messo in cattiva luce qualche volta lo ha pure per carità lo ha pure nobilitato per tanti anni e perché dico che lo mette in cattiva luce? perché è già cominciata la campagna elettorale una campagna elettorale per la quale qualche giorno fa ho dovuto scrivere ad un giornale e poi non sono state riportate le mie parole esatte purtroppo quindi il messaggio non è arrivato basta di fare le campagne elettorale con promesse che non stanno né in cielo né in terra con intimidazioni che non non sono sopportabili nel 2022 un vecchio modo di fare la politica basta fermatelo tu anche se costruirete una una lista con con il coordinatore del gallo attuale che per me è più che moribondo bloccatelo non può continuare così non può continuare a evocare teste gadute promesse fatue e inesistenti noto che c'è un astio noto che c'è un astio però questo astio lo posso risolvere solo io scusate un attimino la presunzione facendo un bel confronto ci mettiamo noi tre con il coordinatore del gallo e ci chiariamo una volta per tutte credo di arrogarmi questo diritto e questa presunzione in questo momento non appartiene al mio carattere il confronto ma voglio fare notizia io sono affezionato al coordinatore del gallo nei primi cinque anni io è stato mi fa questa promessa facciamo fare questo confronto non televisivo e no televisivo perché io non faccio notizia sono altrimenti guardate io non ho paura di niente lo farei pure quindi assolutamente ho paura di derive strane di questo confronto ma comunque no 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 organizziamo e noi voglio dire un'altra cosa e l'appello al coordinatore non volevo no l'ha nominato lei l'ho nominato io lasciasse liberi alcuni ex consiglieri di andare dove vogliono vabbè glielo diremmo qua allora un'ultima domanda quando si chiede il voto dal palco in pubblica piazza si fa un patto con l'elettorato si sente in un certo senso di aver tradito il suo elettorato rispetto a quello che era il patto iniziale che è stato sancito oppure è stata talmente forte questa situazione che quel patto quel voto sacro che lei ha chiesto nel giorno dell'ultima campagna elettorale poteva essere anche annullato allora io non voglio tessere le mie lodi perché quello che quello che è successo è stato brutto io non non lo contemplavo non avrei mai voluto farlo eppure l'ho fatto e le dico una cosa il sindaco Angelo Cobbino ha detto che ha avuto la solidarietà di tanti cittadini io sono frastornato dagli elogi che sto avendo da tante persone molte del mio elettorato tante altre di altri elettorati c'è stata una frase che all'indomani delle firme mi è arrivata sul telefonino di una una mente pensante grottese un intellettuale un tecnico un ex dirigente politico e amministrativo mi ha scritto finalmente una nuova alba su Grotta Minarda dopo 23 anni io non sono orgoglioso di quello che ho fatto io ho scritto che finalmente mi sono liberato da quel peso massiccio che avevo da diversi mesi perché ho pensato a quello che stava succedendo alla deriva che stavamo prendendo al conflitto che c'era sul comune al tacere del sindaco alla incapacità del sindaco di scegliere di decidere per concludere il mandato in una maniera forte con chi era andato nelle case delle persone a chiedere il voto perché per non far fare un passo indietro al coordinatore doveva fare un passo indietro le persone non si sentono tradite anzi io sono convinto e questa è la motivazione per la quale vado orgoglioso che alle prossime elezioni ci sarà una nuova compagine forse non la mia forse un'altra ancora più illuminata che metterà la parola fine definitiva a una vecchia politica che stenta a sparire grazie dottore con l'impresa e con l'impegno soprattutto di fare questo confronto me l'ha strappato c'è la registrazione mi ha detto che si può fare in modo tale ci chiariamo una volta per tutte perché poi dopo arriverà l'ennesima richiesta del coordinatore del Gallo ma poi devo rispondere ma poi dove rispondere lei quindi ci chiariamo una volta tutte e tre per tutti la faremo quando i tempi saranno anche un po' più distesi lei sta dicendo che me la sta strappando io non ho detto sì io no io no prima ha detto no poi ha detto sì poi io la farei la farei non ho paura a farlo diciamo così con il massimo impegno e con la massima professionalità questa è la garanzia che le posso dare grazie buona serata a tutti i rispettatori grazie ancora per la gentilezza la disponibilità e l'opportunità che mi avete dato ma e mi sento ancora compresso per questo le darò un'altra occasione insieme al coordinatore grazie arrivederci buona serata grazie a tutti grazie a tutti